Salve a tutti ragazze e ragazze ed eccomi ritornata in questo nuovo video. Uomini e donne ben presso in studio assisteremo alla scelta di Carlo Pietropoli che iniziò il programma molto prima di Giovanna Abbate. Per quanto riguarda Daniele Del Moro e Sara, la redazione ha deciso che non era il caso di continuare il loro percorso all'interno dello studio perché non ci sono basi concrete sui loro corteggiatori e corteggiatrici. Mentre per Carlo la situazione è diversa perché la conoscenza era più avanzata e quindi arriverà una scelta con Cecilia e Ginevra. La pagina Instagram di Uomini e donne ha fatto sapere poco fa che proprio domenica verrà registrata la scelta di Carlo. Non sarà però una vera e propria scelta ma una proposta di conoscersi fuori dallo studio. Carlo sceglierà quindi la persona che vuole conoscere al di fuori un po' meglio visto che non ha avuto possibilità per fare esterne mentre la scelta di Giovanna arriverà tra mercoledì o giovedì prossimo. Quindi nella prima settimana di giugno perché Uomini e donne ricordiamolo finirà il 9 giugno. Giovanna come abbiamo visto nell'ultima puntata ha eliminato Alessandro Graziani e ha tenuto l'alchimista e Sammi Hassan e tra di loro avverrà la scelta. Chi sceglierà secondo voi? Scrivetemelo nei commenti.